Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo per Affariitaliani.it. Oggi al forum annuale del Comitato Leonardo si è parlato di Industria 4.0. Ecco, le chiedo quanto Industria 4.0 abbia dato una spinta all'industria italiana nel senso dell'internazionalizzazione. Questo è un buon punto perché Industria 4.0 parla di digitalizzazione, ma essere digitali, investire nell'innovazione, nella ricerca, anche attraverso gli sgravi fiscali posti dal governo e noi rifinanziati per 10 miliardi, sicuramente, automaticamente porta a una maggiore internazionalizzazione. Quindi oggi abbiamo fatto un punto di quanto positiva sia stato il lancio di Industria 4.0 in poco più di un anno e certamente quanto questo sia positivo per far sì che le imprese del Comitato Leonardo, ma non solo con il Comitato Leonardo, ma comunque tutte le aziende che portano la bandiera italiana al di fuori dei confini nazionali, siano favorite da questo e sicuramente siano in un trend di crescita di posizionamento o di competizione, siano in un trend migliore rispetto agli altri.